Siamo a Prato, prosegue la mostra a Torre di Babele, incontriamo Santo Ficara davanti all'opera che espone, se ce la descrive. Sì, questa è un'opera dipinta negli anni 90 da Luigi Ontani, è un artista importantissimo, che a me mi è sempre piaciuto. Fa parte della mia collezione, è un'opera che non ho mai voluto vendere e Gagliano è venuto a casa mia alla scelta per questa mostra. Cosa la lega a quest'opera? Beh, io sono molto amico dell'artista e l'ho esposta in una mostra che avevo fatta a Firenze nel 96, credo. E da quel momento lì l'ho acquistata da lui stesso e mi accompagna a mio lungo lavoro di gallerista.